Ciao a tutti, sono Marta Suvea e benvenuti su Bigs Coven, il canale YouTube è interamente dedicato al true creepy, l'originale, diffidata alle imitazioni che girano in giro. Benvenuti perché oggi parliamo di un caso estremamente recente, su cui onestamente volevo parlare anche per fare un po' di sensibilizzazione per quanto riguarda determinate tematiche, di cui ci occupiamo sempre qui su questo canale, ovvero l'estremismo religioso, a prescindere da qualsiasi sia, e donne che denunciano e non vengono ascoltate, come sempre. Oggi quindi vi voglio parlare del caso di Altavilla, per quello che si sa e i pericoli che riguarda anche i social, Santoni eccetera eccetera. Molto spesso secondo me la nostra società è abituata a pensare all'estremismo religioso e a spaventarsi solamente per alcune religioni, quando in realtà, quando qualcosa viene portato all'estremo, teoricamente può essere sempre pericoloso, e di notizie insomma sul mappostedutor demonio ne abbiamo sentite tante, pensate anche alla storia per esempio di The Conjuring che abbiamo parlato insieme. Oggi quindi parleremo di Giovanni Barreca, l'immigratore di 54 anni, che era seguace di un santone e ha praticato un esercesmo, tortu, a due dei suoi figli, la moglie, e insieme alla figlia è un'altra situazione. Parliamo di tutte queste cose, sarà molto molto complicato, ma spero di riflettere insieme su determinati argomenti, e come secondo me la tv non stia parlando effettivamente di quelli interessanti. Prima di iniziare, se vi voglio di supportare il mio lavoro, potete farlo con un like o un commento, oppure ancora abbonandovi al mio canale, potete supportarmi anche seguendomi su Instagram e TikTok, e utilizzando il mio codice, il codice sghicio, su Pampling il codice sghicio vi farò ottenere un paio di calze in omaggio, se vuoi comprare delle magliette, e ci sono tante magliette, ma cinema, serie tv, manga, anime, ma è un codice affiliato, quindi io ottengo una percentuale, grazie mille davvero. Quindi, insieme subiamo a parlare di questo discorso, questo è un fatto assolutamente agghiacciante, le vittime sono dei bambini, figli di Giovanni, Kevin di 16 anni, e Emanuel di solamente 5 anni. Lui è totalmente partito di Brocca, convinto che i figli, così come la moglie, fossero posseduti dal neumonio. Giovanni fa il muratore, è nella provincia di Altavilla, ed è a Palermo. Da subito tutte le cose diventano molto strane, perché la madre inizialmente non si trova. Antonella Salmone aveva solamente 41 anni, e viene ritrovata ben poche parti di lei, ecco. Ma spunta dal nulla, la figlia è 17 anni. Il modo in cui viene ritrovata sinceramente è strano, lei è nella sua camera da letto, sul letto, in stato confusionale, e quando la polizia arriva dice, no ma hanno fatto un rito, un esorcismo per cacciare il demonio. Onestamente i giornali hanno fatto alcune delle cose che io non capisco quando riguarda questi casi, ovvero diffondere ovviamente le parti più inquietanti. Le parti più inquietanti, sì, puoi dirle, è giusto, cioè non è che c'è una censura, ma vanno contestualizzate. Il fatto che tu mi rilasci la telefonata, è logico che mette i brividi, crea una sensazione forte, e la gente condividerà quell'articolo, guarderà quel giornale, scusate, quel giornale, quel servizio. Però devi contestualizzarmelo. Giovanni chiama la polizia, sembrerebbe aver fatto queste cose orribili circa il 9 febbraio. Chiama la polizia e dice, ho tolto la vita alla mia famiglia, vi aspetto, venite a prendermi. Perché c'era il demonio a casa mia. Tutto è ancora in fase di ricostruzione, quindi le cose sono veramente, veramente molto agli albori. E ogni volta c'è un nuovo aggiornamento. Io, sinceramente, sono letteralmente... Iniziamo dalla prima cosa. Una persona fortemente religiosa è in sé oppure no? Perché che la convenzione che una religione possa darti l'ok per fare del male a qualcuno, non lo so. Io, sinceramente, non sono una psicologa, ovviamente, però a me sembra proprio follia dire no, vabbè, non c'è stacca la testa, perché altrimenti tutti quelli che credono a una religione teoricamente sono matti, perché se credi a delle cose come il demonio o a delle cose soprannaturali, allora se non c'è stacca la testa, non lo so. Mi sembra una cosa molto, molto complicata da gestire. C'è sicuramente da dire che, ovviamente, non va presa sotto gamba il fatto che ci siano degli estremismi religioni. E nella nostra società, per esempio, accettiamo gli esorcismi. Per esempio, a Roma c'è una scuola di esorcismo. E ci sono, per esempio, preti, magari, nelle nostre città, che se tu gli dici qualcosa, ah, magari è posseduta... Io mi ricordo la mia insegnante di religione che voleva fare un esorcismo a una delle mie compagni. E la motivazione, sinceramente, io non so dirvi cos'è. Però era una professoressa molto, molto inquietante e non era nemmeno una religiosa, ecco, nel senso non era una suora. Molto spesso, quando accadono queste cose di frenesia religiosa di qualsiasi tipo, le cose si alimentano, soprattutto quando ci stanno varie persone in gruppo. E a quanto pare sono stati fermati due conoscenti, Sabrina Fina e Massimo Carandente, sempre lì a Palermo. A quanto pare pure loro stavano fissa che la religione si riunivano, facevano questi incontri privati, delle letture, dei religiosi, di roba così. Io, sinceramente, posso dirvi una cosa. Cioè, io fatico già a sopportare l'estremismo religioso. E per estremismo religioso, intendo, quando va oltre la vita di tutti i giorni nel darti delle regole, tipo, che non vanno semplicemente nel buon costume, ecco. Quando vanno oltre la vita delle persone, io mi domando, ma sarà che forse siamo un po' troppo blandi noi? Cioè, per esempio, già che la religione cattolica si permetta di dire eh, ma l'interruzione di gravidanza o le cellule, la fecondazione eterologa, cioè già questo per me è estremismo religioso. Però noi siamo molto abituati a vedere questa cosa dalla religione cattolica, perché se questo estremismo ce lo facesse, che ne so, l'Islam, tutti correrebbero in Italia sulle barricate. L'Islam vuole fermare una legge, la libertà delle donne, però se lo fa la religione cristiana, ok. Se sentiamo l'esorcismo, diciamo, ok. Se ti arriva quello e ti fa, oh, guarda, ti faccio il rito di Harry Potter, appia, oh, vuoi l'inchiude dopo tre secondi. Molto spesso diciamo che la religione va a superire quando non c'è un'educazione sotto diversi aspetti e quindi quella può rischiare di diventare una sorta di legge a tutto tondo, una legge universale, che vale sia per quanto riguarda la legge di tutti i giorni, ma anche per quanto riguarda le conoscenze. Molte persone, per esempio, negli Stati Uniti, insegnano il creazionismo nelle scuole, quindi non il Big Bang, ma Gesù ha creato i dinosauri e le persone. Secondo le prime discrezioni, si ipotizza che proprio questa coppia sia stata lì a fomentare e stigare sto tale Giovanni. La verità, la verità, ma io ma che cazzo ne so. Vi posso dire sinceramente che di queste persone presunte colpevoli, sinceramente, io non credo all'ombroso, ovvero che gli angoli della faccia ti dicono chi sei, però posso dirvi una cosa, possiamo fare due fili di body shaming a tutta sta gente, perché shaming è sbagliato, però probabilmente queste persone sono accusate di aver tolto la vita in una maniera disumana a tre persone. Possiamo almeno prenderli per il culo, per il proprio aspetto? Oppure no, oppure è sbagliato anche questo? Cioè mi sembra il minimo. Cosa è successo? A quanto pare questa famiglia stava affrontando dei grandi problemi economici. Ovviamente, cioè tutto sta aumentando e entrambi facevano dei lavori molto umidi, lui il muratore e lei l'abbatante, che purtroppo vuol dire che te fai un sacco di sedere così, ma viene pagato molto poco. E avere tre figli, una casa, ovviamente costa la vita. La famiglia frequentava una chiesa evangelica a Palermo, e per quanto ne so io le chiese evangeliche sono un po' più, più ferre, ecco. La chiesa cattolica è tipo un po' così, c'è una volta ogni tanto, si è il prete deve fare così, però la chiesa evangelica che io sappia, non dico se è tipo neocatecumene, roba così, però è una roba dove è una comunità molto ferrea, che quindi è molto presente nella vita di tutti i giorni. Sto tentando di dire nella maniera meno correlabile possibile, ma ben presto non era abbastanza, si allontanano e iniziano a fare dei gruppi di preghiera a casa. Da qui il Giovanni, il nostro caro Giovanni, sinceramente ho visto i suoi surfi, ma perché faceva i surfi dove volava a far mollicone, santo Dio, santo Dio. Lui è in istanfissa con un santone, un santone di origini baresi, addirittura il giornale è specifico che sia di origini baresi, come se fosse una roba che ci può dare un'informazione extra, ma vabbè, ovvero tale Roberto Amatulli. Lui lo segue su TikTok e Instagram, no Instagram, solo TikTok e Facebook, perché siamo in un'area boomer. E tale Roberto Amatulli si definisce Ministro di Gesù Cristo, ripieno dello Spirito Santo, e sostiene di essere in grado di scacciare il demonio, attraverso il fuoco di Dio, e di guarire addirittura un tumore. Infatti, sembrerebbe anche che abbia invitato a non seguire le terapie mediche, e aver detto, almeno così sostiene le vani di ferro, quindi caro Roberto, se devi guarire l'acqua a qualcuno, io sto a dire, per avere le vani di ferro, vi adago loro, sostiene virgoletta. Hai un tumore? Non ti curare, solo Gesù ti può osservare, certo, vanno a cimitero. Sinceramente queste cose io le trovo gravissime, è letteralmente pieno su YouTube di gente che dà delle informazioni, che sono informazioni, non proprio che corrispondono con quanto riguarda la medicina, informazioni di un certo tipo, addirittura informazioni politiche. E così come in questo caso c'è stata questa lettura da parte di Giovanni, che sicuramente Giovanni sarà stato in uno status di un certo tipo, con un contesto di un certo tipo, quindi non è che sto dando la colpa a Roberto Amatulli. Ovviamente ci saranno state delle diamiche, però possiamo dire che YouTube, Internet, TikTok, è assolutamente pieno di gente che dice delle cose fuori dalla grazia di Dio, letteralmente. Trovo assurdo onestamente nell'ambito religioso, ognuno si può proclamare esperto di religione, esperto di Dio, tipo vabbè, io sono un santone, seguitemi, venite nella mia religione. Cioè, a me verrebbe mai sinceramente di dire una cosa del genere, però capisco che persone in un momento della loro vita molto debole, come magari, che ne so, stai affrontando una malattia, un lutto, una difficoltà economica, ovviamente sei molto delicato in quel momento, e quindi una persona con forte carisma può avere un potere enorme su di te, magari senza nemmeno che lui lo sappia. Quando succede questa notizia, ovviamente qualcuno prende il collegamento di tale Roberto con quello che ha fatto Giovanni, e Roberto che ha detto? Ha detto, l'opera che noi facciamo è un'opera di meraviglia, di nuova vita, non ha mai partecipato ad alcuna diretta tale Giovanni, non conosco quest'uomo, e a noi dispiace ovviamente tutto quello che è successo, anzi avremmo voluto aiutare questa persona, così come abbiamo sempre fatto con tanti. Onestamente io credo che mo' da agorpa a suo Roberto, per quanto è successo, sinceramente non mi sembra, a meno che non si trovano dei messaggi, di svitare, fallo, sinceramente no. Credo che magari se dà delle informazioni tipo non curarti, quello sì, ecco andrebbe un po' approfondito da persone competenti e roba così, se lo fa, poi se non lo fa, meglio, ecco. Credo però che, indubbiamente, la religione secondo me è potenzialmente sempre un grande pericolo di influenza, per quanto riguarda persone magari facilmente influenzabili, oppure in grandi momenti dove ci sono poche informazioni, poche informazioni può voler dire magari non poter avere accesso a una salute mentale, soprattutto quando hai poche disponibilità economiche, magari non hai una grande istruzione, e credi che i psicologi siano solamente per i matti, o tutte queste cose, c'è un grande stigma, oppure ancora magari sei in un piccolo paesino, dove non c'è nessuno che è uno psicologo magari del servizio sanitario nazionale, che quindi potresti andare gratis, magari non hai il tempo per andarci, e tutte queste cose. Credo che in un contesto simile, la regione possa diventare qualcosa, dove la gente inizia a mettere tutto quello che vuole, e quindi arriva che tu da chiesa cattolica, chiesa evangelica, inizi a seguire un tizio a caso su Instagram, un tizio, un amico tuo, e te fai le cose, le messe dentro casa. È logico che quindi viene tutto meno, anche quel poco di credibilità che c'era all'interno di quella cosa, perché ovviamente io, il prete, il prete ne saprà più di me, per quanto riguarda il Vangelo, roba così, quindi se io mi metto a fare una messa dentro casa, non ne sai, oppure poi addirittura, leggere male qualcosa, interpretarlo in una maniera molto diversa, rispetto a quanto non è, e quindi dare una lettura, che magari influenzata dalla tua visione, dal tuo momento di debolezza, oppure ancora da influenze negative. Onestamente, inserire Roberto all'interno di quello che ha fatto Giovanni, mi sembra un po' stiracchiato per i capelli, perché a quanto pare era semplicemente un suo fan, non è come tu se gli dai a corpa di, non lo so, a Céline Dion, che uno che si ascoltava ha fatto qualcosa di brutto. C'è da dire però, che onestamente sto Roberto un po', diciamo che certe cose un po' criticabili ci sono, infatti lui già, lui si autoproclama pastore evangelico e santone, ma poi santone, come si diventa santone? C'è una scuola, una laurea, c'è un diploma da prendere come santone, perché non lo so, nel caso mi butto così, se me va male con YouTube, magari qualcosa mi invento, una religione sui glitter, i poni e i chihuahua, sull'amore e il modo di preghiera, è tipo accarezzare i poni e accarezzare i chihuahua. A quanto pare già precedentemente, le iene si erano occupate di lui, tramite diverse segnalazioni. Perché? Perché a quanto pare dicono i giornali, che lui attraverso le sue dirette, che fa sui social, si proclama guaritore. E ovviamente questa sarebbe una cosa un po' gravina, eh? Io sinceramente non è che per forza, prendo come oro colato le iene, perché le iene a volte hanno dimostrato che alcune cose c'era una forte lettura di un certo tipo, ecco. Che quindi poteva essere in vari modi e lo rappresentavano come un'unica lettura. Che può esserci a volte, sinceramente prendiamo il caso Stamina, ci sono state cose molto criticabili. Però, insomma, secondo alcuni addirittura accusano Roberto di aver, di convincere in queste dirette, di convincere le persone a abbandonare la propria famiglia e unirsi a lui. Non lo so, a me sembrano delle accuse molto forti che vi posso dire. Cioè, se tu dici che non curassi la gente quello è grave, ecco. Se dici queste cose vanno un po' approfondite, ecco. Però vanno approfondite, a prescindere da questo caso terribile che è successo di Giovanni. Una delle cose che è stata detta su Roberto, per esempio, è quella che secondo alcuni abbia risvegliato un bambino dal coma, tipo, vabbè, sveglia, dei ragazzicci, diventa a scuola, una cosa così. Non lo so, mi sembrano un po' delle cose che è molto complicata e che ovviamente, soprattutto in un contesto di religione cattolica cristiana che si avvicina al magico diventano molto complicate da sconfessare, un po' come la Madonna di cui abbiamo parlato tempo fa. Insomma, effettivamente Roberto avrà un ruolo per quanto riguarda quello che è scattato nella mente di Giovanni. Secondo me pure, se ce l'avesse, secondo me è un privo di responsabilità in questo caso, visto che non hanno avuto nessun contatto diretto e non ha detto, cioè, non è che dice oh, fa degli esorcismi direttamente. Il problema ovviamente, secondo me, è forse una situazione di salute mentale complicata che magari le altre persone, chissà che cosa è successo, pure l'artre stavano male, non so dirvi. Giovanni aveva un'idea, era convinto che i suoi due figli di 5-16 anni, la figlia di 17 e la moglie di 41, fossero posseduti dal demonio e così hanno subito tentato di esorcizzarli. Ci sono molte storie per quanto riguarda gli esorcismi dove le persone hanno perso la vita purtroppo perché si crea una sorta di euforia collettiva dove molto spesso in contesti cristiani cattolici hanno notato che le persone si fanno fomentare anche da atti molto sadici con una presunta voglia di aiutare. Il gruppo si autoalimenta e quindi succede che si autoconvincono che devono andare sempre oltre. Ovviamente è complicato anche la Chiesa Cattolica per esempio disconoscere determinate pratiche fatte così fai da te cioè poi per carità per me che è la mani esorcista è ancora una cosa ancora più folle pensiamo a padre Amort vi ho fatto un video pure su quello però ovviamente il fai da te diventa sempre un vabbè vale tutto e ovviamente diventa qualcosa di pericoloso. Gli istinti più beceri dell'umanità si potrebbero svegliare semplicemente con la scusa di essere perdonati nel fare qualcosa perché c'è una causa più grande come per esempio accade molte volte nelle guerre al momento sono indagati lui sua figlia di 17 anni e i due coniugi e tutti a vario titolo accusati di oh Thor a quanto pare quando sono stati arrestati sia lui che la figlia erano in stato confusionale perché hanno dormito poco perché hanno preso qualcosa perché si erano quasi autoalimentati non si sa onestamente lui però si era autoconvinto che dentro casa c'era il demonio e che i suoi familiari erano posseduti da satana a quanto pare lui era molto ossessionato da immagini bibliche passi della bibbia tanto che le condivideva frequentemente sui social loro hanno vissuto anche in altre regioni mi sembra al nord solamente quando cinque anni fa sono tornati in Sicilia sono andati in Sicilia e lì è nato per esempio l'ultimo bambino quello di cinque anni Manuel l'ossessione religiosa di Giovanni si vedeva anche sui social parlava dei costumi della società che diventavano sempre più dissoluti richiamava una ricerca un riavvicinamento a Dio da parte della società e parlava della religione come una presunta via della salvezza gli inquirenti si stanno però concentrando sui legami che lui ha con Sabrina Fina e Massimo Caradende sembrerebbe quindi che i tre siano fortemente legati dal fanatismo religioso che avevano che forse poteva essere non condiviso dalla moglie e in un contesto di estremo fanatismo una persona che non è altrettanto coinvolta nella religione tanto quanto te potrebbe sembrare un dissidente una persona posseduta pensate per esempio a quelle comunità religiose che addirittura stimolano e chiedono di chiudere completamente i contatti dalle persone che ne escono come se non sbaglio i testimoni di Geova Scientology in un audio subito dopo quella terribile cosa che hanno fatto la vita a queste tre persone i due coniugi dicevano sono successe cose complicate da Antonella in tutto questo però ovviamente le vittime principali per quanto Giuseppe Giovanni scusate poteva avere problemi di salute mentale roba del genere ci sono delle cose onestamente imperdonabili sia semplicemente onestamente la sua esistenza in un certo senso ma anche per quanto riguarda quello che ha fatto il comune per esempio è stato interpellato e ha confermato che la coppia aveva problemi economici tanto che addirittura il comune aveva aiutato in un certo senso la donna dandole un ruolo per un piccolo lavoro di polizia lì nel comune così che aveva un secondo lavoretto e una piccola entrata extra il fatto che lei boraccia doveva fare un culo così visto che stavano in difficoltà economiche ovviamente ha semplicemente peggiorato la situazione di Giovanni che quindi ha iniziato ad essere più ossessionato con il demonio e a essere violento nei confronti della moglie secondo voi cosa è successo? non è successo assolutamente niente perché ovviamente le donne vengono sempre ritenute vabbè ma te stai lamentato troppo nonostante Antonella si stesse letteralmente facendo due lavori visto che c'erano problemi economici ovviamente diventa un problema e a questo c'è anche tutta la costruzione della mascolinità oh mio dio devo mantenere la famiglia se mi levo di mezzo diventa tutto più facile guarda un po' i dettagli che emergono purtroppo sembrano veramente molto estremi il bambino più piccolo sembra mancare delle unghie quindi ipotizzano che le abbiano lentamente fatto del male ovviamente guarda caso questa situazione così cieca presa dalla dalla religione ha una strategia guarda te la prima che è quella ovviamente più pericolosa era la madre che è quella che purtroppo le hanno levato la vita per prima perché ovviamente era l'unica che poteva fisicamente sovrastarli e fermarli l'altra c'era una ragazzina di 17 anni che vede tre adulti che gli dicono che fa una cosa e quindi che cavolo fa e dall'altra parte un ragazzo di 16 e un bambino di 5 per tre giorni hanno fatto loro delle cose orribili prima di togliere loro la vita buoni incandescenti oggetti per il cammino incandescenti messi sulla pelle il tutto tra il 9 e l'11 febbraio Giovanni con questa coppia sostengono che stiano facendo tutto per liberare Antonella e i due figli la ragazzina inizia a confermare tutto quando viene successivamente anche lei è arrestata e sospettata di aver fatto delle cose orribili e iniziano a rilencare tutte le cose che hanno fatto in un versione di esorcismo fai da te molto spesso anche nei film quando vediamo immagini di esorcismi si vede che quello che accade a schermo è una sorta di più o meno lieve tor perché l'obiettivo è tipo far uscire il maligno e loro hanno tentato di fare la stessa cosa davano caffè amaro in bocca al bambino di 5 anni per credere di fargli sputare il demonio è stato ritrovato sembrerebbe senza delle unghie quindi forse strappato via forse come per farlo confessare molto spesso gli esorcismi sembrano quasi dei rituali medievali proprio per questo c'erano delle catene i bambini erano letteralmente incapretati e gli mettevano del phon nella bocca per tentare di fargli confessare qualcosa hanno preso degli strumenti del camino incandescenti e messi sulla pelle per bruciarli per convincerli a parlare del demonio colpiti con la padella il figlio più grande di 16 anni ha tentato di difendersi perché ovviamente aveva l'unico il fisico che poteva tentare di fare qualcosa e salvare anche il fratellino lo hanno legato in modo che ha visto anche difficoltà per esempio a respirare e anche a difendersi la figlia una volta arrestata ha detto che la madre è stata tortu da tutti con il phon incandescente con la padella e con le pinze del camino assistendo a tutto e anche le stesse ha assistito e dice eravamo a terra in cucina mia madre era a terra con il volto in giù ed erano presenti anche sabrina massimo kevin e mio padre la tor ravano a turno sia sabrina che massimo la madre avrebbe più volte chiesto a questa ragazza la figlia di chiamare i soccorsi chiamare i carabinieri però la ragazza non l'ha affatto antonella è stata una delle prime a cui hanno tolto la vita hanno avvolto il corpo in una coperta e hanno dato fuoco e poi seppellito i resti in giardino quello su cui si rifletta adesso è anche un'altra cosa quanto questa ragazza di 17 anni sia colpevole o meno al momento è indagata e ovviamente sembra aver partecipato attivamente a tutto ciò ma questo rende colpevoli da una parte ovviamente tutti noi ci domandiamo ma com'è possibile che fanno una cosa a tuo fratello e tu non reagisci dall'altra parte io mi domando se tu cresci in un contesto fortemente religioso dove esiste satana secondo me è molto probabile che se i tuoi genitori ti dicono che quella persona ha il demonio e devi fare questo per aiutarla secondo me è molto facile che tu sei tendente a credere piuttosto che non credergli e credo che se vedi degli adulti anche se non ci credi sei portato a fare quello cioè se vedi un adulto che dice x sta subendo delle cose brutte gli stanno facendo del male è logico che vuoi credere a y per stare dall'altra parte quindi per paura che se non pure te finisci esattamente come la persona che sta subendo in quel momento non so se è chiaro sinceramente quindi è colpevole c'è preveditazione io sinceramente non vi so dire credo che sia una situazione ovviamente terrificante perché se l'ha fatto davvero è una brutta persona se effettivamente ci crede da una persona cattiva riducendo tutto ai minimi termini dall'altra parte se l'ha fatto perché ha soggettato ha spaventato da roba così è ancora peggio è ancora più terribile allo stesso tempo sembrerebbe che Antonella avesse denunciato alla polizia il fatto che il marito la picchiasse i vicini dicono che hanno sentito delle cose non si sa e onestamente io credo che in queste situazioni ci siano tanti colpevoli tante persone che hanno sentito e sapevano che questo era un po' così per quanto riguarda la religione e magari si hanno girato dall'altra parte hanno sminuito tante persone che magari vedevano i lividi di Antonella hanno capito la situazione e magari non hanno aiutato sembrerebbe che sia andata dalla polizia e gli hanno detto eh vabbè ma fino a che non fa niente non possiamo aiutarla come accade sempre perché fino a che non c'è una minaccia li poteva li ammazzare e non fa qualcosa attivamente in quel senso a volte la polizia sbriga tutto poi in contesti molto piccoli è molto probabile che sia considerato anche normale se un marito gli è meno ogni tanto la moglie quindi figuriamoci all'interno di tutto ciò ci saranno sicuramente delle persone che hanno sentito e hanno fatto spallucce hanno visto magari delle cose ci saranno sicuramente delle situazioni in cui magari i bambini dovevano andare in gita e magari Giovanni diceva no non ce li mando perché è contro la volontà di Dio molte persone avranno assistito a queste cose no non ti mettere la gonna a 17 anni perché è contro la volontà di Dio è satana e roba così e molti avranno sminuito questa cosa dove si trova un equilibrio tra libertà di culto e possibile pericolo ovviamente è molto complicato io non è che so di avere la soluzione qui dalla tasca però io credo che osservare con attenzione determinate cose potrebbe prevenire tante altre e non credo che le cose nascano da zero credo ci sia sempre un grado di tolleranza e volta a ignorare a girarsi dall'altra parte che man mano cresce e credo che questa cosa si poteva prevenire sotto tanti aspetti non credo che la colpa sia del santone preso su facebook quello ci avrà altre colpe forse se veramente dice alla persona di non curarsi credo però che le colpe ci siano sicuramente nell'aver abbandonato questi bambini e aver visto delle cose e aver detto ah vabbè eh così di qua di là senza mai aiutarli davvero e ora purtroppo non possono più essere aiutati io sinceramente vorrei seguire questo caso anche per capire sinceramente meglio come è andata la situazione come erano gli equilibri però insomma la situazione è molto complicata e come sempre le religioni purtroppo possono essere benzina per cose buone ma molto spesso per cose molto brutte e persone che se ne approfittano di altri o cose così questo è tutto voi avete sentito di questa situazione a me ha molto colpito e mi ha colpito onestamente che non abbia avuto abbastanza spazio perché credevo ne avesse molto di più però fatemi sapere voi che cosa ne pensate se fosse stato sicuramente in un'altra religione probabilmente adesso sarebbe in parlamento e ci sarebbe qualche politico ed estrema destra pronto a proibire questa religione però visto che quando le cose brutte vengono fatte secondo cattolicesimo cristianesimo eccetera eccetera vabbè è un caso dall'altra parte invece è oh mio dio chiudiamo questo vabbè questo era tutto se siete rimasti qui mi piacerebbe un sacco sentire le vostre riflessioni qui sotto e magari anche lasciarmi un emoji a tema giallo un emoji giallo oppure scrivete giallo grazie mille ancora e fatemi sapere che cosa ne pensate se conoscete magari quei luoghi o questi contesti ditemi qualcosa in più mi farebbe molto piacere grazie ancora e ciao grazie a tutti grazie a tutti